buongiorno dai quasi 1400 metri del Monte Limbara Floriano l'admin e l'amico Bruno un locale della zona in visita dove vediamo se qualcuno di voi indovina qualche traccia c'è un bel posto caldo tra l'altro doveva essere un po più fresco invece fa un caldo tutto abbandonato tutto chiuso misteri della fede della vita bene ampio reportage nei prossimi giorni per ora a accontentatevi dell'antipastino